Bella raga! Oh carichi grandissimi! Ciao a tutti ragazzi! Come state questa sera, eh? Oh carichi, eh? Wow! Mh? Sassi, devo un attimo riprendere adesso, però, eh? Che cosa oggi? Che cosa? Bella, bella! Oh, adesso... Eh? Eccoci! Grazie, lama! Eh, oh Vector, ormai è così, siete miei! Siete miei, però venite qua che vi abbraccio pure un cazzo di casino, eh? Non vi lascio stare un momento, vedrete domani poi! Wow! Cosa è sta... sta situazione, ragazzi? È faticosa! Un pisolino, dai! Ci abbiamo ancora tre minuti, tre minuti, dai! Ecco qua! Svegliatemi, urlate quando... Va bene? No, non riesco a addormentarmi! Ragazzi, ma che bello che sta venendo fuori il diario di bordo Su Discord Si state scrivendo le cosine, sta venendo fuori una cosa bellissima Camino Lugino è scritto ore 20, ha già previsto il previsto, eh? Un po' stanchino, ma pronto per la live horror con Lino e Fra Quindi... Falso... Nicola D'Abbari Poi andrei via tu per tre settimane quando gli altri tornano? No! Tanto c'è un termoraculo Dopo tre anni che ho sto portatile Mi sono accorto di aver sempre avuto l'accelerazione del mouse attiva Stasera l'ho disattivata Quindi farò i culi su Overwatch 2 Su Overwatch 2 Meglio un uovo oggi Che una gallina nel pane Sta uscendo troppo spesso questa cazzi gallina, eh? Comunque Comunque molto bellino il diario di bordo che sta compilando su Discord Poi quando tornano gli altri lo leggiamo tutto quanto È tutto Eh no, infatti Tocca farci il brodo Perché hanno rotto le palle questa gallina Ragazzi Questa sera due giochi Uno di backup Non lo so Adesso poi se andiamo agli altri Mi diranno No, 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 ma perché? Per come? Ma, ma, dovevi fare questo De quest'altro Che lì no Organizza un pochino così le cose Vediamo se ci sono su Discord Eh Li videochiamo Ce li avrò io Come si fa ragazzi? Vabbè Faranno loro Faranno Mi chiameranno loro Mi chiameranno, no? Eh No, chiamo lì, no? Aspetta Chiamo al telefono Per dirgli Secondo, eh Aspettate Pronto? Pronto? Pronto Mi sa Sente? Ti senti Tu mi senti? Sì Tu? Io sì Ti sento Tu mi senti? Aspetta Aspetta Tu mi senti? Aspetta Aspetta Tu mi senti Aspetta Tu mi senti? Sì, ma tu stai messo bene, però non ti hai messo come un modello, io ci sono messo così Lino, ma con che telefono mi stai chiamando? Come? Perché? Aspetta Cos'è l'iPhone questo? Ma che iPhone? Ti chiamo il numero? Ah, dove? Ti chiamo il numero Eh, mi chiami te, che io non ho il numero Va bene, voi ti chiami Grazie Chiudo, eh Come si cresce? Va bene, sta qui, dai Cos'è, si è girato? Aspetta, no, chiudo Ecco qua Grazie per succello e Iron Mingo Grazie, adesso mi telefonano forse Il pixel, cos'è un pixel? Cos'è? Grazie, Nomad No, tu Kane in particolare, no No, tu devi aspettare che tornano gli altri dal Giappone Io sono diverso, ecco Eeeh Adesso mi chiameranno Mi chiameranno? Ah, no, vedi, vedi Adesso entro Pronto No Non parte la chiamata Non parte Connessione in corso Non si collega Discord e merda Metto giù Rientro Non funziona Mi dice Connessione in corso Mica va Ok Grazie, Brucolino Chiudo Discord Aspetta, eh Tanto adesso appena clicco chiudi Parte la chiamata, eh Adesso lo riapro Eh, devo rispondere Mi funziona Aspetta Perché funziona? Eeeh Sono detto che paura Eeeh Eeeh Non mi partivo Ho dovuto chiudere Discord E riaprirlo E poi Dopo E' partito subito Mi sono Non è che ti vedevamo Dentro Mi diceva Connessione in corso Ma non connetteva Ah, ho capito Comunque non ti permettermi Più di ridicare il mio telefono Ma che schifo, eh Ma proprio schifo Ma ragazzi È lo Xiaomi Pins Immaginavo Cioè ce l'ho Cioè ce l'ho l'iPhone Però non lo utilizzo Per queste cose Fai bene Ma no, ti capisco benissimo No, più che altro Non mi arrivano nemmeno le notifiche Cioè io ho disabilitato Tutte le notifiche Eh L'unica cosa che mi arriva Sono quelle di Alessandra E tanto nemmeno Li rispondo su questo E basta No, fai bene Ti scrive là E tu prendi il tuo telefono E rispondi Sì Comodo Praticamente No, utilizzo sempre questo No, effettivamente Guarda, che un'ottima idea A pensarci prima Non lo rimandavo indietro l'iPhone Guarda L'iPhone è molto Io lo utilizzo solo per fare le earl E basta Per il resto È meglio Infilarsi qualcosa nel curlo Più so se utilizzare l'iPhone Guarda, veramente Bene Ma È molto più comodo Per quanto devo fare Quindi Volevo farvi questa domanda Vai Quindi facciamo Al curai Questa sera Sì Ma prima facciamo un'altra cosa Quindi volete fare prima l'altro Due minuti e lo chiediamo Anche perché non penso che dure di più Ragazzi Anche perché se no non funziona No, dai Funzionare funziona sicuro Mi ricordo Manga Mi chiede Super qualcosa Allora Banni man Se volete Fate vedere il trailer Alle vostre chat Perché io Devo fare rivedere volentieri Il trailer No, no Ha il video più bello del mondo Ma boh Mo lo mettiamo Lo apro Spero che ci sia quella canzone Tra è alto o basso Perché secondo me è un po' basso Medio Medio altezza Sei zitto Non chiedevo a te Scebo Ti ho allacciato In chat Scrivi medio basso Lino Perché ti No, grazie È basso Scusa è basso È vero, è vero Questa volta era A sette Di altezza Che tanto Sette Da una scala Da 1 a 2 È tantissimo Da 1 a 2 È overscalato Proprio Ma quello di Steam Devo far vedere Finalmente Che bello amici C'è la colonna sonora Bella ora Ma a me non mi fa Mettere il titolo Ti A parte che è un delirio Di merda È bellissimo 14 euro vale solo l'intro Questo qui è costato 14 euro 14 euro L'ho voluto mettere Anzi 15 Che è 14 e 99 Esatto 15 Ma guarda come saltano È ipnotico Quello che invece ho proposto io Che è sicuramente un gioco spettacolare Ne costa solo quanto? 4 euro Sì però nel tuo gioco Parlano così A tempo di musica A parte che non credi Ci sarà questa musica Nel gioco Ma io ho paura Che sia Principalmente a due giocatori Non a tutti Di due No ce ne sono 4 Ce ne sono 4 In una sola vignetta Immagine Nel vittimode C'è la storia A parte che il trailer Fa cagare lì Me l'ha pompato così tanto Fa schifo Solo per la musica Sì Cosa avevo io Testo di cazzo Vuoi mettere Come si fa? Alvebundum Allora Ma qualcuno mi riesce a mettere il titolo del gioco Io lo riesco Te lo vado a vincere io Dice cerca e basta Non c'è niente Allora Mauro è invitato È un attimo No ragazzi Ma la modalità No invece c'è la musica dentro il gioco Francesco Fanconzo Non c'è però Eccolo Si gioca col pad? Boh Ah deathmatch Non l'ho fatto tu Ah Allora Purtroppo Ciao Sì È un gioco fatto per lo più per due persone Però Possiamo giocare a basket A carrot grey grab Non è successo niente Lino Quando ti ho toccato Ti dovrei invitare Ma a parte che penso che tu ti possa infilare Penso di sì Aspetta Fammi mettere la grafica a ultra Per favore Vai vai No Vabbè ma incredibile Tanto ci dura due minuti La vera coppa è sul gioco horror E se ci prendiamo bene Lino? Ma è finito vale? Ma ci vediamo questo per sempre Io dopo un'ora inizio a menarvi Se volete continuare Perché Devo rimborsare per forza Assolutamente sì Francesco rivolgo dai soldi Ma anche io rivolgo i soldi Se permetti Qualcuno vuole giocare in coppa con me Non lo so Allora Lino O mi fai conoscere gli sviluppatori E mi E devo capire Se sono delle brave persone o no Così sì Così da capire se Se posso lasciargli i soldi o no Altrimenti lo rimborso Non so Dai entra Moro Pangone Aspetta Ma perché non mi cambia la categoria? Vabbè ma non ti serve No mi sono messo io due volte Vabbè quando ci siete vado Con calma Iniziamo da Allora possiamo iniziare da deathmatch Poi fare basketball E poi carrot game Praticamente sono tre partite Che possiamo fare Ottimo Vai Vabbè non vogliamo giocare Gioca horror No no Ottimo Ero serissimo Lino Hey I am the developer I am good send me money Vado Io premo go Ma gliel'ho già sendati Moni Devo vedere se riprendermeli o meno Io premo basta Vai vai Oddio come si gioca Nessuno lo sa Ma io chi sono? No ragazzi Cosa sono io? Aspetta Io chi mi sono? Sono il verde? No io sono il verde No sono morto Io sono il verde Io sono il verde Io sono il giallo Io chi sono Chi sono io? Ma che voglio fare? Levati che ti ingroppo Eccomi Uhuh Ma non è che No mi si è spento il petto Ecco perché non si muove No io sono il giallo Francesco Io sono il giallo No io sono il giallo Io mi muovo E muovi Sei il verde No io sono il verde Ma io sono il giallo Ma Lino chi è allora? Scusatemi Ma io sono il roso E nero E porca la miseria Scusa E qual è Ah il dorsale Bisogna morire Bisogna morire Come si gioca? Opla Bisogna uccidere Moro Vieni qua Vieni qua Ragazzi Non so come ho fatto però Però l'ho fatto bene Opla Opla Aia No Moro Opla Mi è un proverito Già Moro A cazzo sono infilato Andate via Quindi il giallo Il giallo è fra Oh signore Ma guarda Ragazzi Ragazzi sono morto A quarto di bastone Vai vai E suplex Mi sono infilato io Ti prego Io non so Sono durissimo Porca bestia Ho preso le spaine Ma andate via Io vi scaccio così Sono un pisello Io rimbarzo da fortissimo Come invece Francesco L'ho buttato nel mezzo Ce l'ho fatto Vai Moro Vai No no Mi l'ho morto No Sono morto di nuovo No Bravo Moro Eccomi No ragazzi Ma non mi uccidete Sono piccolo Ho due vite Cazzo No mi avete messo nel buco Ma in finché ho morto Aspetta Sto facendo allenamento Togli i piedi I piedi I piedi Vangono i piedi Aia Aia I piedi No 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 Vai tu Vai Lino vai Vangono i piedi No ma Vita Come sono morto Non voglio essere prima a morire No Ultima vita Ultima vita No Va bene E Undertaker Vieni No Sixty nine Ragazzi Sixty nine No Ma è bellissimo E' andata E' andata e vince Bravo Complimenti Che 69 incredibile Non lo rimborso ragazzi Andiamo avanti Facciamo basketball Vai Subito Chissà come si gioca Sulla neve O sulla spiaggia Sulla spiaggia Come fai il basketball Sulla spiaggia O sulla neve Anche Oddio uno contro uno Uno contro uno Uno più uno No ma perché proprio io contro due persone Che non so giocare Vai Moro vai Prendi ragazzi Non si muove il mio micello Vai tu lì indietro Vai Aspetta No Lei va ti fa Non si muove a me Era morto proprio No dobbiamo uscire forse Oh signore Ma si muove poco Effettivamente Andiamo al menù No c'è un problema Non si muoveva Anche a me dopo Mi si pingava più Comunque No riproviamo Sempre basket Se proprio devo Se proprio devo stare da solo Vediamo Ecco ora ci sono Gol Assume Aspetta Arrivo Ma come fate Oh no Dammi la palla Questa è una bella domanda Ragazzi No Sparino Dacci una mano Che facciamo il primo caniccio Ma sono entrati Vai Entra Vai da dentro Vai uguale Non è vero Prendo il pallone Sono affogato Aspetta Non riesco Ma è impossibile Ragazzi Ma io Come si Oh Di testa La vagli di testa Vado Ma sono le onde Ma affoghi Vai bravo Oh no Sium No Ma come sono morto Aspetta Arrivo eh Uno Bravo che non ci leggi E Teiko Sono impegnatissimo L'ho presa L'ho presa Ma c'è un modo per prenderla Vai Col grillezzo Non mi sto impegnando così tanto in vita mia No mai Prendo lì Lo tengo fermo lì Aia Ma che cazzo che ti ha dato È scemo Da dentro non vale Ma entra dentro No non entrare dentro Esci fuori E io resto così Così la palla non entra La prendo Mamma mia amore vai 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 Tira Da tre Da tre Da tre No Dunkey Master Sono in ghiacciata incredibile Non vale io contro me stesso sono Mi ha ucciso Guarda Guarda questa come la faccio eh No Ragazzi ma questo è bullissimo contro me L'ho ripresa Forza Napoli Guarda quello Ho play Ma no Sassi in grid è diventato Aia Salto Dribble 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 Gioco dell'anno Nessuno credeva in questo gioco No da dentro non vale Via via Vai Vai Moro Vai Moro Mamma mia Staccati Oh non me l'ha dato Non me l'ha dato Sticato Hai perso tutto Non ce la dà Che gioco di merda Guarda è cicciato a fuori Oh no Ma aiuto Ma quando finisce Questa partita Aiuto Ma è andata rosso Ma ne so Le mie camiglie Aspetta che mi sentite Sì E mi era andata rosso O bs Aspettate che c'era qualche problema Eh ma quello capita Ti stanno addossando Per questo gioco lì Buona che noi ce la facciamo Più I sviluppatori sicuro Non ci deve essere stato Qualche problema Perché ora ho 400 di bitrate Ma Come Ti giuro No ma sarà stato Bs O il server Hai toccato qualche tasto No 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 Si sarà votuto Sì È il tasto che ti abbassa Il litri Ma non fa Ma non fa Ma che cos'è Posizione sensuale Era guida Ma perché tu sei rigido Lì Non ho le ginocchia piegate Non lo so Come faccio a diventare rigido Tieni premuta Tu giochi con mouse e tastiera Certo Tieni sul tasto premuto Quello per saltare E qual'è Cazzone Io uso il pad Non troppo male Eh ma non dovrei Cioè ho mille di bitrate In questo momento Si è un po' Buggato il giorno Tutto capi Eh sì Ma per quanto tempo Si è bloccato Ma ho fatto io Goal Ma quando vai Guarda che gli salta sopra Oh Vai Ma non me li punta Ma guarda che devono toccare Però aspetta Il 2 però me l'ha preso eh No diciamo ancora 2 Una decina di secondi Ma come una decina di secondi Di cosa? Di ritardo? No c'è che addirittura OBS è mandato rosso Una decina di secondi Ma sono sempre stato qui Oh ma scusami C'hai capito? Eh sì ma non cambia Aspetta Ragazzi però questa è una partita sconfitta Eh vabbè dai Ragazzi ormai sono un master in basketball Dei maleriti però Questo comunque fa cagare Sì questo qui fa cagare Vorrei avere 2 bit Però Allora merda Non mi cambia la categoria Eh no mi dà sempre 1000 di bit Non capisco perché Magari piano piano mi saldrà No mi sei so Ho vendato rosso OBS Lino cosa hai fatto? Ah no e allora penso sia Un problema generale Ok Non è che magari Stai ostando tu Lino Quindi No no Anche se fossero mai avuto Di questi problemi Credo Tu che sei? Moro Tu che sei? Fastweb Boh Magari è OBS che si chiama addosso No cambia sei pazzo che fai? Cambia cambia Eh l'ho cambiato No Ah Arot game Ma è sempre a squadra Add team Eh purtroppo si Dai dai Boh No Lino si è perché è lost Io sto stremando a Lino Che poi lui la renderizza I server di Twitch Capito? Sì 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 Oddio ma siamo No però sempre sott'acqua Secondo me dovevo cambiare mappa Ma non mi cago adosso ragazzi Eh pure a me non si muove Aspetta Noo Aspetta aspetta Tra l'altro cambia anche mappa Rimettiamo la prima Vai Comunque Deathmatch è il migliore Che siete pazzo Tu si pazzo Deathmatch è il migliore Oddio come si trova No ma sono fermo Pure io perché? No tu sei scatti come fai? No io non faccio niente A me non si muove Ah perché non avevo suenzionato la finestra Ma a me non si muove Oh mamma mia Dove andranno? Arrivano Tramparriva Dove le devo mettere? Nei blu Amici Io sono fermo Anche io No non è vero Crazzi tuoi Oh Ma scusa me non funziona Ladro Ma buama Ladro Stiamo chiedendo più tempo a sistemarlo Togli i filtri lino Quello è il bot e te li togli Ecco adesso ci sono Ragazzi Ok Come avete fatto a prendere la carota? Posso saperlo? Con il dorsale sinistro Ah ma voi tutti giocate col pad però No no col finistro Sì sì lino sì Ma basta di infilare Il sinistro la tastiera La tastiera sinistra Cioè intendi con il tastino piccolo? Il tasto la rotella del mouse lino Dai credini Non lo so sto usando il pad E infatti che significhi il sinistro? Il sinistro cosa? Sì No perché non l'ho mai usato il mouse Grazie a me l'ho fatto una parata Ecco qua I capelli No perché non credo si utilizza il mouse in questo gioco Capito? Ma è impossibile Non lo sto prendendo Ma come neanche con Eh no infatti Fuori dalle palle Questo è il territorio mio Eh ci proviamo È ovvio No ho scorreggiatto preso Ah ma anche perché loro hanno portato due carote Io zero Non capisco Guardate che sto facendo io Ragazzi Noo Come si prende la carota? Con shift Con shift? Aspetta Non ci riuscirò mai a muovere Muò per forza Ah vedemi Bello Ho capito dopo l'ho capito Però dai Rifacciamo un deathmatch Un deathmatch Dai sì 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 Ci sto Ci sto Come si fa? Dio Come si fa a vendere certa roba A 14 euro Non te lo so dire Ma è un gioco meraviglioso A 15 euro anzi Eh Ok Se lo facevi pagare 32 centesimi No ma anche 2-3 euro Gli hai rilasciato Ma che sei pazzo? Ma 2-3 euro Ma dai è bello Perché si gioca Ma per favore Ma sono morto Ah ah Più che altro Bisognerebbe vedere La modalità storia Sì vabbè Ma non posso Suscitarmi Fra La bamba costa me Perché non ho bisogno Neanche di muovermi Stanno morrendo Ma come hai fatto A non morire? No Staccati dal cazzo Eh ora ho capito Che posso prendere No Ma sei una merda Moro No guardalo No Mamma mia Calcio nel culo Sono una strage Ecco qua E ora che facciamo? Ecco qua No Mamma mia ragazzi No Mamma mia ragazzi Ma non mi sono mai moro Ah Oh Eh perché sono morto No Si impari E stina Ecco qua I piedi piedi Vai 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 giù Vai giù Ma non vedi che è bellissima sta roba Ecco Ma di giochi di atto ce ne stanno tanti che possiamo fare Oh Carca miseria Oh come avete fatto? Così li voglio Moro ti sto scopando Francesco vieni qua ti tiro la coda Vieni qua ti Oh porca miseria L'obiettivo è sicuramente quello di diventare vegetariano Ok No No Io sto fermo Basta non mi muro più Oh porca miseria E' bravissimo Io faccio questo No Vai via No 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 Ma l'hai messo non un dico No no Eh come si pidi bene Ti prendo il volo Oh no Tutto dentro Oh sono morto Ma sei una merda Mi camperi Mi camperi la vita Cazzo che cazzo Oh tu presa il volo Lico vai Mori tu Francesco Mi prendo Ah il collo L'ho spaccato a metà Ho fatto un brutto Oh mio dio Ma se cadi di collo Mori Mo l'ho scoperto Vedi il gioco più bello del mondo Madonna No Qua Non sarò l'ultimo morire Ma lasciamo vincere gli altri Dai Oh Doppia Doppia sucate Si va bene Amoro hai sei vite Ma nemmeno i gatti Hanno tutto Sto cegno di vivere Mi hanno rotto il collo Prima in maniera bruttissima Opple Opple Eccolo qua Bella morte Col salto carpiato Di Dino Oh bellissimo Perfetto Il deathmatch è bellissimo Il resto è proprio Ma merda Cacata Però il deathmatch Wow Cioè ci fossero più Mappe Ci sono più mappe Del deathmatch Si ci sono più mappe Del deathmatch Vuoi fare un altro Vediamo un'altra mappa Vuoi fare un'altra Diversità Vai Cazzo Hai capito Ma c'è un piccolo Ma roba Mi sono rotti i coglioni Che non gioca subito a me Scusatemi Ma guarda Avevo già vinto Guarda Eh C'è stata Sabotata Un'altra volta Non funziona Forse l'ultima funzionerà Guarda Alla terza di solito funziona Giuro Giuro Eh infatti Oddio È vero che ha la terza funziona Come è possibile Sono morto ragazzi Sono morto È stato così Tutto il crack del collo Oh Levatilino Oh mio Sia mia Che un collo Ecco Il mio collo Il mio collo Ok Stava da due conti Oh Non voglio di perirmi No Mi ha rotto l'osso del colon Sono un figo Aspetta Oh Adios Oh no Ma mi sono rotto di nuovo Aiuto Sono fortissimo Chi mi prende Aiuto Io ti prendo Ecco di qua Vai Siamo tu No 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 Aiuto Aiuto Eccomi No Non hai fatto niente Non voglio morire Sono Jean-Claude Van Damme Oh che cosa è questo Aspetta Sono duro Eh sì No Lasciami 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 Andate via Ah no Ho fatto malissimo Ti annusio il culo Cazzarola Tantifico Ma stiamo arrivando nel competitivo Guarda come ho dato la spinta spirituale E anche frizzato oltre che duro Che intendi Maneggia Sono buggato malissimo Ok sono ripreso Lino vai giù Non vedete Lino ti sei rotto? No 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 Sto chiedendo Se non è frizzato Guarda la banno Fai bene Fai bene Ogni tanto bisogna Bisogna dare il pugno duro ogni tanto E far capire Maneggiati E ti ho spezzato l'osso del collo Mi ero bloccato un secondo? Non è abbastanza per dire frizzato Faglielo capire Lino Eh ma mi sai che Twitch che sta andando qualche problema con il mio server Perché io ho tutto regolare Cazzone Tutto regolare Come Moro? Eh niente Moro si vanta Moro si vanta Io ho to' ancora vinto Ecco qua come glielo metto Come glielo metto ragazzi Come glielo metto La mia coda non era bianca prima Ma cosa si era bloccato esattamente? No No sono morto per vedere sta cazzo Eh sì Eh sì Io mi voglio leggere dall'altra parte Eh sì E vieni 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 qua vai Oh Vai Io devo prendere sta panza No 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 Non puoi morire Strano ecco vedi c'è perché a me non avrà bafferato Ma com'è? Orca troia Sì non vuoi per fatti meno perché gli altri mi uccidono Beh se si fa Che kill Bravissimo Dietro non ho mai visto Frizz E capisci hai No Ma sì no Il problema in generale L'amoro mi è struppiato Sì Cioè che vendetta Rispondeva a tono Allora dobbiamo andare Oh Ho fatto Sono mago Opla No Distruggerci di botte però senza poter dare i pugni non è fatta non morire e planchi allora sembra allora ecco qua il mio collo non ce la fa più il mio collo al mio collo tutto c'è da boba duro leggendo la merda calcione della faccia proprio non manca accorto di essere nato che già ma che cazzo no aiuto ok a mai sono il rosa è vero ragazzi mai resta così ragazzi no mi sono distratto per la roba della connessione ragazzi ma da un me no ma vuori ma rimettere la connessione mettiamo 5000 bravo ragazzi quasi questo non è che non voglio non ho l'ultima non mi cambia la categoria che scrivo tu bs non fa niente ci vogliamo provare il d'ultima ma cambia vai ma al prossimo a pro goto lo faccio da ma che moro ma che curi ma vinto prima ho vinto io ho fatto certe mosse ho capito le meccaniche ho capito il meta è solo rosa dai solo di quel nome andiamo sul gioco horror tanto e fino alle 10 circa che saremo insieme vero moro si oggi live lungo come ti sei no ragazzo un problema di c'è un problema di connessione il tuo collo no no se ti sta scaricando i pornini immagini aspettate bibiri cosa può cosa può essere questo sicuramente no chi cazzo mi sono distratto oddio forse è diabolo grazie lino cosa no oh no ma è oggi l'open beta di diabolo domani domani alle cinque alle quattro ok non so domani lo voglio provare no so che è il 24 è ancora l'orario ok tra l'altro domani resti del tipo ma no io lo inizio lunedì ma fa bene ma stavo io sabato mi provo diablos ah ma no ho fatto tutto da solo hai fatto no no lo so vedremo non fate i chiropratici oh ok ragazzi oh ma mi stavete rompendo mamma mia mamma mia ma gli ho spaccato la faccia ce l'hai ma ce l'hai non è uscito oggi c'è un trofeo oh mi ero to tieni ho fatto le anteprime ma solo fino al capitolo 2 solo fino al capitolo 2 si poteva giocare oggi lino invece ho visto che giocavi a counter strike 2 com'è andata no non il 2 vostra maronna ieri notte alle 3 ho acceso il computer per vedere se mi hanno dato la chiave ma ovviamente no ma vedi per il massacrato sono rimasto male 1300 no 1400 300 euro di chiave niente ma guarda mi ha fatto a loro ma stai zitto mi mi sono preferito tra l'altro sarà free to play finalmente eh quello potrebbe essere un problema lascia mi lascia mi lascia potrebbe essere un grande problema no aspetta ti tiro le orecchie mamma mia mamma mia non ci sento più oh no lo scivolo 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 ciao giulio ma ormai è quello vai vai giù vai per una volta no vai giù ma ti hanno rai dato su pomeriggio ah è vero me l'ho dimenticato che wrestling si è vero che tu l'hai dato me l'ho dimenticato ma non è già free to play si è quello già è un grande problema non è free to play counter strike si certo che free to play non è vero no si è free to play si è free to play da un po' ah si da quando? eh ragazzi ogni tanto mi sta andando rossa la connessione non capisco perché a parte qualche bestemmia che vorrei dirà vabbè quanti pacchettini perdi? ce l'hai fatta schifo misto l'hai grandissimo non lo so ci è andato proprio rosso per un secondo da almeno tre anni no due anni ma te lo lo vetti va rosso? quanti pacchetti perdi in basso adesso no a me non lo segna me non lo segna ma proprio un secondo ma è un cavallo stranissimo ok ormai sto diventando un pro player comunque a sto gioco di merda io sono 5 che combo bravolino io ho appena capito come ti spinge go su grazie che cazzo dici? mi hai tirato tutto aspetta non ti do ci siamo rotti il colo bellissima sta roba del co no te lo tiro lino no me lo sono rotto lì mamma mia ma che lino com'è che sta vincendo ma però sono tutte le vite eh perché lo stavano lasciando andare che era triste allora oh signora sono quando sono triste sono fortissimo non ci posso fare niente che superpotere di merda che affangulo no madonna bravo morro che ti devo dire adesso rimane lì cosa fai no sto così sono sono ambiente aspetta un po' amore mi aiutano la macchina no no ecco qua sto scivolando sto scivolando sto scivolando ecco qua speriamo di prenda oh se ma io non è che arrivo voi fate i bulli dagli cazzo c'è fai di pena è vero mi si è arrabbiato pure il computer oggi c'è proprio oggi non aiutare i merdi di sangar mamma mia no aia favo una giornata di fango cosa vuol dire si è arrabbiato il computer a caso si è arrabbiato il computer da solo sì mentre stavo giocando ad un gioco bellissimo invece ho sistemato in teoria tutto OBS sti giorni dagli errori che ci aveva errori ci aveva non lo so ho guardato ieri ho guardato il log di OBS e ci avevo praticamente ogni millisecondo mi compariva un messaggio d'errore perché i frame della fotocamera non esistevano quindi ho dovuto metterli manualmente a 30 no bene no io sai moro che non aggiorno OBS penso da un anno e ho ancora quello vecchio bravo scemo bravo e ho paura che dopo devo risettare la roba ma non è più io l'ho aggiornato pure ieri ma io basta che pure quando ho formatato guarda che poi sono formato cioè se lo aggiornano più bene se lo venga a prendo i secondi eh sì sì moro dice così io non lo farei lino ma non è morto da tu vai ho vinto lino riuscirà a fare anche lui una vittoria no sono troppo triste non è ancora due no 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 lascialo no lino lino ma tranquillo ne ancora una io non credo in te credo ne hai fatto apposta perché volevi giocare alla pari to to nella scheda vai 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 che caduta solo vai che scemo vai vai così lo sapevo lo sapevo ok easy easy lemon pizza bene chiudiamo il suo gioco sarà bello dai siamo divertiti dai esatto sì un secondo di più sarebbe stato un problema quanto c'è giocato fuori live tantissimo allora però diciamo la verità è o non è un giocone no diciamo la verità è o non è un giocone no no secondo me dobbiamo dire la verità però però vogliamo organizzare una serata party game proprio tanti tipo come questi sai cosa mi ha fatto venire in mente in realtà questo gioco knee dog bello anche no ragazzi mi ha aperto una pagina su internet a message from unity about data privacy ma che sei ma come si chiama il gioco ma fa mo mario party adesso mario party no cioè voglio proprio vari tutti diversi tra di loro al curai è che knee dog è bellissimo però è uno contro è uno v uno ma pure se fosse a knee dog ci gioca 20 nudo può essere tutto provocato se riesci a mettere anche questo era quello gang beast sì tu quei giochi là al curai mi ricordo per il game pass non partiva mai era veramente un lavoro al curai al curai sì ho cambiato io mi ricordo che siamo in live con i termopimpimpens e clay sì io sono tutti i termosifoni tra l'altro penso è moro moro dei termosifoni e clay dei clay oh raga avete avviato il gioco sì c'è varagher era carri questo è di orrore scusate ma era la corona è una di dark souls 2 perché questo è dark souls 2 non è per fortuna è dark souls 2 sì sì tutto dark souls 2 coop vai andando a pochi fps la cutscene sapete che secondo me eravamo quel gioco di merda io li metto 4000 bitrate al lancio 5000 esagero voglio vedere se mi ricrascio la connessione ma tanto che c'era un po' vai perché sono in live da tre ore ragazzi ma io sono in live da 16 perché ti sarei fatto il pc ah si è cambiato il computer è vero mamma mia come il tempo oggi non va avanti non va mai grazie questo qui sto gioco promette benissimo ma guarda qui che roba guarda là siamo seduti c'è una cazzina appena apri il gioco che non vuol dire niente tra l'altro c'è il menu allora abbiamo un po' gli rambicanti fps illimitati siamo pazzi è bloodborne questo 2 e c'è una manita di caricamento con la faccia cos'era vai va bene così no ve la siete persa la manita ma c'è il fuoco ma c'è il fuoco ma c'è il fuoco ma c'è il fuoco sì ma bellissimo come li ben metti allora sono le 20 e 37 è vero come fa a saperlo guarda il fuoco no ragazzi non c'è il motion blur nei cose da mettere da togliere è un gioco effettivamente bello guarda adesso vado a vedere i loro social sono piccole queste scrittine finisco ok oddio bello guardate qua che bella che bello studio che hanno ma chi è quel signore che paura il font di merda eh sì però non ce ne capiscono ragazzi hanno fatto nella reaction tutti quanti le sub comunque chi era ecco anche flemma fa simona boris l'animalo illoc coming soon grazie belli dante bay aromb brucolino no 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 è un horror cop niente dead by daylight non sia mai perché noi dead by daylight piuttosto dead mamma mia è la prima cosa ho guardato un po' di giochi ricerca un po' di giochi e poi andavi a leggere la descrizione 4v1 no no ma sono sempre così 4 contro 1 ma perché ma che poi non lo gioca nessuno dead by daylight basta va avanti ma invece ce l'ha ancora ma non è vero sai in realtà un gioco che un tipo una tipologia di gioco che dovremmo rifare i detective cioè quelli là con i traditori tipo quello lì della nave quello sì quello pure sarebbe da ripar sì dai è bello no no non già vogliamo no è che devi è che mi stresso a organizzare io odio scusa basta divieni e lo inoltre a tutti quanti e poi dicono sì sì in due e quindi siete in tre e dici ah comunque se ti può interessare o pummel party se qualche volta volete fare bello magari tra l'altro si dovrebbe poter giocare anche in più tu Lino stai zitto che non capisci niente si dovrebbe poter giocare anche in più di 4 non sai quanto mi piace quel gioco è bellissimo ma buonissimo ti dà un altro gioco ah ho sto ho sto io ma qualcuno non ha detto che devo stare a lui non so per quale motivo ma per me era ovvio dovesse farlo Moro non so per me perché l'ha scelto Moro perché l'ha scelto Moro è giusto si sta si sta vi tocco nel pube Moro si fa le run con la sua coperta non è da solo stavamo qua a guardare mannaia guardate che quando mi invito ok poi pensate in Moro con la coperta hanno andato in Giappone eh sì perché non volevano non volevano gente con la coperta tra l'altro sai che c'è io resto qui e la farò vedere in live ma come può ti dico solo una cosa mi ha invitato su stream e ma non si vede più la puttana oggi ma qua c'è un fiucco ecco qua è questo qui perché non ha giorni OBS lì tra l'altro no 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 ma che cos'è questo luogo medievale è la locanda aspetta eh aspetta aspetta io voglio essere lei scusatemi andate il petto ma no ma scusami ma sei gigante sei ma perché mi vede il petto allora aspettate un attimo eh con la C con la C modificate il personaggio scegliete il personaggio io non sono assolutamente quello che ho scelto io sì sono lì io ma no era vero era quello ok ma guarda come divento grande mamma mia sembrava la maschera di pietra di Jojo scusa ma non è vero ma no sono Spider-Man no no ragazzi è palesemente la maschera di Jojo di di Jojo di Jojo la maschera di pietra di Jojo c'è anche il ragno dietro eh lui è lui è lui però è nera ma c'hai super power che non sai niente la versione bezzotta di Ice White Jot allora sono Spider-Porks ma parate che scusa ma era Medievale perché sono gli stivali ma abbiamo scaricato il gioco giusto siamo in lobby insieme quindi abbiamo scaricato un gioco va bene comunque allora qui c'è ci sono delle taglie che fanno io c'ho l'XL ah level selection aspetta cosa ho fatto scusatemi come hai fatto aspetta ma dalla mano lo fai coming ce ne sta uno scusami ma è la magia della mano bello ho dei ripeti di moro di McLei chi è McLei non ho chi è McLei fammi selezionare il giardino vai ah c'è solo quello gli altri coming soon quindi una caccia facciamo e lo finiamo start game start me Nino se continui con queste battute diventerai padre che culo sono battute ma scarim ma è diventato ma l'audio è basso sì ma è scarim ma chi è che fa quanto la seguono che ha fatto penso sia un signore random che fa non sarà nemmeno su questo carretto perché lo serve troppo fatto ma no cosa c'è il tizio che lo sta governando sarà il cocchiere che parla no eh sì il coc ieri ieri va sempre ridere eh sì ma chi è che l'ha doppiata questo signore io lo davo il monito ma se faccio esc no non posso alzare il volume stiamo appena arrivati vabbè siamo quasi a cassa del cisterno chissà di chi è il parlato c'è un muro ti fa ridere il cazzo che è sciro in che senso perché l'unica volta che si cambia la punta rite un sacco ma è scarim sì sì è una nuova moda la coppa avevo ripreso la coppa non pagare più l'abbonamento no l'ho disinstallato l'abbonamento disinstallato disattivato aspettate che alzo il volume a palla no ma è già il massimo adesso ragazzi ma il fungo aveva gli occhi o mi drogo sì sì ha gli occhi io ho un frame come ok ora non c'è tanto ok sì sì anche a me c'è un falò qui a destra andiamo al falò aspetta che ho la sensibilità sono molto sensibile ragazzi mi metto a piangere un attimo sì devo abbassare la sensibilità ok io abbasso un pochettino tutte le la roba perché è un po' too much mi sa ha messo tutto epico tutto epico mi sembra un po' troppo è già tutto a massimo no no tu togli l'epicità qua non la vogliamo no no io le voglio no 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 chi è lui è il ah lui è il il crestfallen no vedete bene chat all'audio devo alzare bravi bravi anche se nessuno ma è già al 100% eh sì ma non c'è oh mio sindaco ma oh mio sindaco l'hai sentito? sì sì era piccolissimo per me parlo eh vaga a me che paura ma come uno di sei? è il dialogo uno di sei? sì il dialogo ma senti che devi ci devi raccontare la storia ho finito a posto a posto best given qualcosa con la witch the witch su tab new quest tab a witch that goes by the name Esme like somewhere in the royal garden odd place for a witch certo find the witch in the main ma che ci vuoi? dai facciamo easy ma è un labirinto francesco è un problema ma è questo entra i labirinti sono sono problematici eh signore mi faccia entrare a posto è che li finiviamo ma scusa ma dateli un po' d'acqua a questo signore beh ma ciao ito aggiornatemi su come vedete per favore amici qui dà problemi ciao zeny no no lo sai c'ho la come si chiama? i problemi mentali si a parte quelli che ne ho un sacco no? l'anteprima che mi da un po' di problemi comunque si dopo lo aggiorno bs baffan chiudi l'anteprima ecco ti non vi ma ora dove vedevi ah ma non è che siamo e sono qui di fianco ma è qui di qua ma è qui di qua ma è qui ma è bene ok e si entra eh non si entra ragazzi vabbè parlo pure io vabbè parlo di qua io dritto di qua no qua è un muro niente no è per forza di là si entra ragazzi per forza no c'è un muro siamo dentro un giardino di quadrati cemento non è che dobbiamo prendere la pistola no la spada da lui dici un inventario c'era la spada da lui effettivamente e tagliamo le liane scusa eh quella era la mia idea capi? eh sì come è eh che fiatone che ho sì mio dio non si può correre diventata bronchile dopo 5 secondi dritto di dritto di no non voglio parlare ma è seri accia ah F tengo la luce accesa ma è che voi come stavate facendo tutto destro ma siete la banda dei lingogliolini ma scu... polin è arrivato quello geniale è arrivato eh sempre tu le idee geniali ce le hai perché appunto no ma ragazzi ma cosa dobbiamo fare? non lo so ma lo vedo io ma lo vedo eh veditelo ecco ho trovato dove dobbiamo andare ecco qua l'ho trovato dove oh dove? è qua mi segui il segnale lo vedi? no però immagino ah eccovi ciao demon ma perché è qui scusa? boh poteva essere dove è lui è un diritto lo devi ritrovare no lino levati che non vedo come levati che non vedo? è attaccato di me oh avete visto? avete visto? sei pazzo si si c'è una zoccola c'è non dire le parolacce brutte mica è una parolacce la zoccola è un topo molto bluco sono le prostitute non sono le prostitute ma aspetta ma con F ah ma con F non è la luce si è una cosa più piccola capito sei un cazzaro vedi? ma guarda fa il grasso e poi dopo ti inventa le cose no è che io premevo F per me era questa la luce poi c'è anche il frano qua fa il grasso ma volevo dire fa il grosso sbagliato oh tu cattore che ha cuperta hai capito? ho sbagliato io cattore ma senza cuperta oh aspetta aspetta oh aspetta aspetta che qui avanti non si può usare torrent eh mi raccomando perchè non si può usare torrent? Elino questi sono insai i giochi di noi che giochiamo Elder Ring tu non puoi capire no ma comunque ho finito anche io quel gioco è una cagata gigante è una cagata gigante questa lettera il funghetto di droga con un cellulare no sembra veramente un cellulare questo update che è? che è? su saving little Arnold salva il piccolo Avold la famiglia del piccolo Avold sì dobbiamo trovare 10 magliettini dobbiamo trovare 10 ma che cazzo Moro ma che gioco mi hai fatto di caricare? bellissimo ci sono i collezionali quello che è tipo di funghetti quel lato che fa zoccoli allora ragazzi il trucco per un labirinto è stiamo sempre attaccati al muro destro muro destro c'è una statua c'è no no c'è una statua c'è una statua di chi è? eccomi ma secondo me non è horror questo gioco è solo un'avventura medievale vabbè potrebbe essere carino sì c'è una luce strana dobbiamo seguire è il calice di fuoco di Harry Potter una citazione questa sono 5 vai bello questa finisce manna mia usa l'hai usata veramente immagina il funnudo yoga no niente cuori da burnare o chi è questa signora? sarebbe veramente epocale una roba del genere ma è l'aracroft con le puppe di fuori? l'aracroft botana non vedo ragazzi come non vedo? io vedo benissimo ma come fai? io vedo una signora ma è tutto buio immagino che dobbiamo ucciderla con una spada roba assosa non c'è un cavolo di merda ma neanche per un po' ti ceravi io mi sono molto spaventato ma è quelag ma itty quelag ma è maria signora la smetti quindi mi confermate che si vede bene ragazzi ma è divino no dito lì la verità ma dicono di sì perchè dovrebbero dire di no quando sì e il mostro vagina ragazzi non è vero secondo me il mostro oggi questo cos'è? beh io potrei seguire volentieri ah io sono una use the bird knows the funghi ma è uscato buco qua questo c'è i piedi di fuoco eh il funghetto guarda che carino via 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 no vedo questo ma chi se ne frega di queste statue serviranno a qualcosa serviranno a qualcosa forse è dopo aver uscito il boss eh use vedi qua si posso Legend of the Conqueror ah no in realtà sono letteralmente delle statue di storia eh si sono la lore sono gli eroi del vecchio labirinto noi facciamo le non la roll ah viva allora noi siamo arrivati andiamo di qua da dietro credo qual è il dietro? credo questa è la l'opposto di lino credo io sono sicuro la pianta è qua eh ok credo che questa sia la safe aspetta questa è la safe scusami oh mamma mamma oh corri 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 se mi metto qui non mi può far niente ragazzi il mostro è terribile andiamola a prendere sei sicuro che non è di qua andiamo dall'altra parte scusatemi e noi pensi che dobbiamo andare proprio dove c'è lei aspetta eh se c'è la statua da qualche parte che eh il mostro mi ricordo quello lì di si però aspetta mi ricordo lì it takes two non so se ve lo ricordate quello di take two non mi ricordo nessun mostro su it takes two la statua è comunque c'era sempre eh quella lì nel giardino ma cazzo di guardia ah è vero vabbè è una pianta carnivora quella che mostro lì no? è una pianta carnivora è un quadro testa di cazzo sei scemo ma infatti metti pure tu eh qui c'è un cadavere che è caduto no è morto di distrazione eh si c'è un cadavere ahahahah aspetta che forse intanto io ho preso un secchio ho preso un segno io c'ho un barattolo invece anzi meglio il coltello no il coltello la signora pelvica sto bene chiude il portone ah qua stiamo in segno no basta che sei dentro la riga azzurra ma ragazzi ma che devo fare? devo prendere i bicchieri le cose ma che devo fare? ho preso ho mangiato ho bevuto ma ti ha? funziona? ma che cazzo? c'è un barattolo che lo prendo oddio dobbiamo fare delle cose ci servono quattro coupe di sand ah c'è un libro qui sì allora diciamo il sangue del creatore usa il coltello ehm ma non fa ma cosa sta birra? maneggiamo te allora io ho preso fuori qua ho preso un il secchio? no ho preso una tavola hai preso una tavola? sì ah bisogna buttarle nel secchio poi le robe vedi sono scritti qui gli ingredienti ho preso sì c'era qui di fianco tipo un lastrone gigante tipo di un pezzo di cerchio e non lo buttare qui immagino ok di un pezzo di cerchio con delle rune azzurre scusatemi eh ma quindi l'icona del cestino della munnezza ce l'ho solo io a schermo intero gigante a schermo intero gigante si ok pure tu no io c'ho un in basso a destra c'ho questo spicchio di pizza io c'ho questo barattolo quindi abbiamo due cose diverse ok per quello non possiamo raccogliere il coltello probabilmente perché abbiamo le mani piene di culo e com'è la coltello? l'ho buttato a terra mamma come? con la G con la G è fottetto che c'avevo quello vabbè il coltello lo riprendo questo ragazzi eh ma continuo a bere ma ne... bravo il coltello serviva dentro? cos'è qui? chi ha lasciato per terra qui cosa? ma che cazzo? ah il barattolo per le fatine il coltello no serve per prendere il sangue dal creatore e il creatore e chi è? aspetta aspetta non è questo qui per terra magari il creatore tu dici? il corpo questo qui può essere? si sto premendo i dati abbuffo le mazzate non fa un gatto non fa niente ho provato col sangue lì ma niente sento una musica terribile ah qui c'è la sabbia ah aspetta forse lo posso prender ho preso la sabbia buttala nel cesso wow sono un fico bravo ok e sta pizza che cazzo ho preso una pizza che ci devo fare con la pizza ragazzi? non lo so lino eppure sono di Napoli dovrei saperlo arriva la trapattone dobbiamo trovare le fatine eh mangiala aaaaa io mi sto perdendo ragazzi avete il mostro dietro sono andato ormai sono andato ragazzi ragazzi ma ci siamo persi mi sono diviso ancora lì io sono anch'io sono diviso sono più persone torniamo a casa torniamo a casa non posso sono perso nel labirinto per sempre ragazzi no Moro ti ho messo visto franzo sei sono andato un po' avanti eh ma dove avanti? qua aspetta torno indietro che mi ricordo adesso fermo all'ingresso sento dei passi di Strasburgo ecco ti ho visto chi che è che corre? vai sono io ok e Moro è andato di qua aspetta aspetta e che fa eccolo ho visto Moro ecco qua 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 chi è? Moro t'ho visto passare? aspettate aspettate che faccio una cosa eccolo ma la sopra c'è il Gargoyles cazzo che non lo so che cazzo non è già ancora laghi? ma che ne so ok ma sempre vedi proprio i miei OBS? eh no ma secondo me lo devo aggiornare che sei un po' un culà allora io sono all'inizio vabbè ci siamo divisi però di Ken dai abbiamo capito ma che fatica a tenere sto cazzo click però solo di non morire perché morire potrebbe essere un grave problema eh potrebbe esserlo potrebbe franzo bravo vai di là io vado di qua mi sono girato e non c'eri più no ma vado dove sto io Bruno tu stai da morto vai dietro le barre azzurre che lì è safe mi ha preso? ma io sono tornato alla cazzi casa sono tornato io non so dove sono oddio mi ha preso ma ma sono in un luogo di funghi buono è un modo di vita eh? è un luogo di fungo è un luogo di fungo è un luogo di fungo che significa questa roba secondo voi? ah mio dio che paura che paura perché con la maschera dovevano farci scusami e tu l'abbia scelto il personaggio ma che cazzo c'è un mostro oh qui sul cimitero c'è un altro pezzo di pizza qui che non posso prendere perché ho le mani piene di pizza che serve qua c'è il gargoyle ragazzi si è morito ma non si capisce no ah sono spawnato di nuovo ottimo ok però i peros sono quello che avevi in mano avevi in mano qualcosa ma la chiave serve avevi la pizza tu ok non è che oddio però adesso devo capire dove cazzo siamo e ormai ma non c'è un cazzo qui serve la chiave per sta cioè potremmo andare sia di là che di qua eh è finito chiede a del cazzo è per fare un gioco così in un loggerito ah moro che si è aperto ho aperto uno shortcut oh aspettate fermi sapete dove sono? c'è la chiave ora mi vedo mi sa aspetta che vedo no io sono arrivato dove c'eravamo prima con i vari fuochi con i colori ah ok all'inizio del tour tanto come cazzo ti do le indicazioni lino eh no il problema è che ci siamo divisi come dei pingoni eh ma oddio qua non si può andare quando si vede un cazzo all'Hub no magari c'è il creatore qui sotto sei messo il coltello lino no no c'è un nemico c'è un nemico c'è un nemico c'è un nemico c'è messo il coltello lino questo zombie ti ha urlato? si sono respawnato eh allora un po' che sei respawnato è un bene perché ci possiamo incontrare ok? non si capisce una sega di quello che devi fare ma ti fa respawnare indietro per me col posto di funghi c'è una lanterna in un albero eh se prendi la lanterna si spegni ipoteticamente ah devo seguire le lanterne mi portano si ad una certa spawni non ho capito dove mamma mia che bronchite che c'ha aspettiamo moro chat perché credo che ritorni qui credo penso di si però se tipo eccomi ma no sono sotto terra sono come sei sotto terra? aspetta che cago fuori come sei sotto terra? ah sono no io sono all'inizio esatto eh ma non dove c'erano i fuochi proprio all'inizio no ci arrivi è poco dopo i fuochi i fuochi sono poco 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 dopo i fuochi sono poco 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 dopo natura eccoli qua ok devi tornare arrivare per forza dove sto io praticamente si ma eh è un labirinto dove cazzo sei vino? no no io sono alla casa capito? ma allora vaffanculo va ma per forza qua devi venire no eh si ma io ho perso il barattolo per le luciole adesso e ho respawnato lì? no devi trovare dove sei morto ma qui c'è una pira incredibile di fianco dove c'era il falò una pirla? una pirla e che ci facciamo con una pirla? ho trovato una chiave tipo una chiave d'argento ma com'è che sta trovando queste cose queste? eh perchè sono esplorato ma eh testa di cazzo che è? che vuoi? eh ma qui sta giocando in altro gioco moro ma ho capito c'era parla con un cadavere sul tavolo mi sei alzato in piedi mi ha urlato nella faccia ha fatto bene ha fatto bene ragazzi dobbiamo mettere questa roba nel secchio e poi dobbiamo andare a fangulo ecco allora dov'è che era? mo' la casa diventando di bere una birra ciao purple tu vai la trovo non ti preoccupa' è ormato ragazzi ma qui è tutto buio ma fra? fra? francesco? fra? ma raga ma francesco? 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 no ragazzi ma no no allora perché ieri ha avuto ha avuto problemi di connessione ieri e quindi dici si perfettava il nostro item is gone back to c'è un oggetto perso è tornato ah è tornato qui perchè si è suono in sopra no ma quello era quello che avevo io non è nemmeno in live è crashato è crashato è crashato chissà se potrà rientrare penso di si no lino se non può rientrare è scagareggio eh fra ha avuto momenti migliori non è live sarà crashato aspettiamo iniziamo a rincontrarci e poi vediamo adesso cerchiamo la merda di casa lino non la trovo ma come è possibile com'è? eccola signor Dino non andare ma hai visto lo popo moz? chi? vieni c'è uno popo moz qui in giro moro è piccolo ma che dici? ragazzi esiste non sono pazzo non sei pazzo no ragazzi c'è uno popo moz no lì ci stanno io popo mozzati andiamo via che dicevi? ma fra è così silenzioso ma ha detto boss sarà mutato per ringraziare qualcuno per un'estrema unzione non lo so ma che cazzo ma che cazzo allora fra ma è tim che sta cagato addosso secondo me ha lasciato il coltello qui però il coltello vedi è respawnato perché mi ha fatto un po' di arancione vabbè ma l'arancione va bene no si moro non ci perdiamo un'altra volta per l'amor di dio allora io ho sta chiave del cazzo dove me la metto? dove me la metto la chiave? dove me la metto? moro ci siamo ripersi sono a casa sono a casa amore sono a casa amore non star lontano da me ok io ti trovo che canzone è questa? le faccio tutte io queste canzoni allo stesso sitem allo stesso sitem ah è il barattolo il barattolo bravo te cosa hai in mano? una pizza io sono col di napoli questa pizza buttala giù buttala a pizza prendi il barattolo a bomba a Roland andiamo ah mannacciala che dolore Moro che è? hai presente il piede? no? ce l'hai pure tu l'ho dato fortissimo con la parte dietro sui piedi della sedia nooo di metallo tra l'altro che dolore ma lei può farlo? mmm che Mario effettivamente lei può farlo eh poteva venire ce la si da dondo si si è finta è gigante è finta dai andiamo ma ragazzi qualcuno ha notizie di fra non so il suo gruppo telegram aspetta vediamo un po' che succede su ci sono noi gli amici no intendo gli amici della chat non che non mi ha scritto niente nemmeno su telegram andò forse non siamo gli amici non sono gli amici non siamo io ho paura che forse Fran non ha la promozione eh? non ha la promozione che sei la promozione? la promozione sul telefono come fai a non avere la promozione? io non ce l'ho ogni tanto che cazzo dici? si se dimentico di fare la la come si chiama? la ricarica capito? si vabbè perchè vuoi di per me dire non ho la promozione è come dire non ho attivato i soldi dai avete capito? ok si chiama credito non ho la promozione vabbè adesso si chiama credito non dite le puttanate si chiama chi è che non ho il credito chi è che dice non ho il credito? ecco discussione sui termini non ho il credito sono impossibilitato a chiamarla non vengo una lira noppa al telefono andiamo torniamo indietro aspetta vieni con me no però son serio non so tipo tutti un sacco di gente mia mamma ma che è successo ai capelli ragazzi? puoi parlare con questo? si si no è moruto eh no me lo prendo solo io vabbè sempre ma ma che cos'è? gli ho scritto ma non risponde eh ho paura non so tipo gianjigio che mod qualcuno che capita vicino a casa sua quando gli vado a bussare a casa eh ma non parlare dei capelli tu e invece si proprio perchè io non ce li ho posso parlare arrivo nei primi 2000 era così ma nei primi 2000 perchè era popolato il mondo era popolato da gente arcaica c'è un pro è fresco un bar ah 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 ma no fermati ti lo farei delle cose uuuh di qua di qua no abbiamo no perchè segue me ti odio morelli io sono safe dove sei andato? fatti prendere che non so dove spawna dove si spawna sono morto eh ma t'aspetto qui sono qui dove respawni lino eh schifo però cazzo e io dove spawno? io spawno sono davvero triste questa cosa mi dispiace che cazzo schifo alla stessa ora gli è andato via il culo ieri però eh potrebbe anche essere un problema generale generale perché anch'io generale sotto la collina non era sotto la collina che è morto non mi ricordo come se l'ha sotterrato ah sei qui se andiamo se l'ha sotterrato il generale generale pezzo di merda oh oh no ah cap generale oh oh lino qua qua vieni qua il sensuale allora occhio io c'ho una chiave d'argento ma qui abbiamo t'aperto non so se ma moro io non ne ho la mappa qua che ma che ma no perché sei voli? perché non mi ahahahah Lino stai attento qui sotto comunque che è pieno di stronzi e prima mi hanno inculato Come? Si E mi fai venire pure a me? Eh almeno C'hanno l'imbalazzo della scelta Ma mi hanno rubato la luce? Eh si Capita a volte C'è uno proprio moslino Ehi tavo amico Ma è di fango Gli hanno un sacco di piccioni che gli hanno fatto la pupu in sva addosso Allora Che è? Che fa? No vai via da quello E se ne va Che sta di cazzo Allora Andiamo via Oh Delle catene grandissime No È un poco moz grande Però qua c'è un buco da andare lì Andiamo È tutto umido Vino Mamma mia amore Hai scelto un gioco di fogne No Ma c'è un buro invisibile Salta No no C'è un muretto invisibile Ah scusami È il cateter Bello questo Parete Cazzo ci devo fare Scusa Non può essere Ci sono le mani? Aprepiamoci Che cazzo di cazzo di cazzo Ma che cazzo Ma è una persona Un signore Posso mettere l'offerta qui di fianco? Sì, è un nuovo mod grande Sì, viene a trovare una pazzone, mo Che? La promozione devi attivare Nooo Basta Oh, è pieno di mani Ma c'erano prima, no No Ma si sta generando piano piano No, ma è voluto, è voluto Sì, 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 è voluto È voluto, sì Vediamo, andiamo dall'altra parte Adesso si sta nel culo, va Ci sono in merda No, se qua vogliono un'offerta C'è un altro popopork Il mouse, c'è il mushroom Cosa hai preso? Saving little Arnold's Ma chi è? Ma noi abbiamo delle quest Abbiamo tre funghi su dieci No, dobbiamo fare la pietra filosofale di Harry Potter Ah, ma hai trovato un popomods Il fungo Fungo, sì, un fungomods Vabbè, ma chi se ne furtta del fungo? Oh, ma tu che fai i washbundings? Perché non ti vedi un popomods? C'è su Prime Video? Non lo so Eh, speriamo di no Vedi, te lo ho piratato No Aspetta, Moro, ho un problema Niente, no, uno Volevo solo sfogarmi Ah Andiamo Hit Bounty C'è un altro popomods Ah, Moro, guarda qua C'è un altro bugo Andiamo, non vedo l'ora, lì, no Ok Hype Hype chat Hype Consigliare di vedere giochi Cioè, film piratati E popomods, sì, è un film Nooo Ah, ma qui C'è un buco più grande C'è Che è? Hai aperto? È un mini Ma una chiave Una chiave Gold Io ce l'ho silver Io ce l'ho silver T'azzo, Moro Io vorrei farti vedere Quello che vedo io Niente Non c'è la mappa In questo momento Vabbè Ma in che senso Niente In che senso Cioè, vedi bianco, nero Sneakpick a mio drive Vuoi vedere Sneakpick Vuoi vedere Sneakpick Aspetta Che adesso mi parte qualcuno In home page Bestemmia Sono io Ciao, Moro No, ragazzi Ma lui è proprio nudo Sì, sì Vabbè Ma non mi faccio problemi Insomma Mi sta bene Mi sta bene Tra l'altro La lingua Ma è sotto Tu la vedi sotto E sono le palle Moro È uno scroto Hai mimiche Con lo scroto Cioè, poteva capitare a tutti Ma è capitato proprio a Lino, eh Vabbè Ma io ormai Non mi faccio più domande Non mi sta bene Qua Le palle Il mimico Con le palle Dai andiamo Dove dobbiamo andare Eh, hai preso la Golden Key E noi Ho la Silver Key Aspetta Ma tu che vedi meglio Vai avanti Tu che non vedo un cazzo Ma che cosa ne pensi di Oddio, non ricordo Come si chiama Quello dei One Direction Che ora fa roba da solo Eh, Matt Marduk Jeffrey Styles Non è Jeffrey Styles È Harry Styles Sai che in realtà L'ascolto L'ascolto parecchio L'ascolto Sai Sono proprio belle Cioè, tipo Golden No, non l'ascolto No Golden è proprio bella Però Marco Marco dice che è molto bravo Ultimamente Sì Per dirti Golden Mi ricorda un sacco Alla lontana Di Yes Di Pink Floyd Qua Forse solo questa Mi ricorda tanto Di Yes Sì Sembra anche Gloria 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 Oh, shortcut Che vero Gloria 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 Adesso No, torniamo indietro Lì Ne avremo shortcut Io sono andato al suo concerto Ti dirò Di Gloria Mi ha un po' stupito Non bene Dove sei Moro Mi sono perduto No, torna indietro Nella cancellazione Sono tornato Io ho una chiave d'oro Io Silver E insieme faremo I Silver Chain Che fanno Cosa sto dicendo? Non so Lino Non si trova un cazzo Questo labirinto De merda Comunque È un labirinto Moro Le fatine Da rinchiudere dentro il barattolo Non abbiamo visto Un cazzo Di niente Il sangue Del creatore Francesco Non mi rutto Grazie Ha fatto E quattro Ha fatto bene Lino Ti sei drogato? No No Aspetta Aspetta Cosa vuole? Niente Ci fissa Vedi che ci fissa Gloria Gloria Manchi tu nel lato No Lino Ti stai addormentando? Secondo te È doioso? No È che ogni tanto Mi viene Lo sbariglio Come hai fatto ad aprirlo? Lino L'hai buggato Con le chiavi Con le chiavi Tengo la chiave Che parla Ma è una capannina Degli popomoz questa Sono piccoli Popomoz Bevo No Entriamo Possiamo Entrare Dai Dentro Non rispondere Non rispondere Oh Vamo qui Magari si svegli Francesco Ah ma ecco Dove è andato Francesco Si è rindonato Qui dentro Ah Alfredo Alfredo Con Alfredo Con Alfredo Con Alfredo Si è ingazzato Francesco Perché? È fatto Un suono Demipide Proprio Secondo Non mi vede Ci sono Dammi giusto Un secondo Sì sì Intanto guardo Qui intorno La signora pelvica È qua Andiamo No Però andiamo Di qua Ah sì certo È arrabbiatissimo Sì Qua ci va avanti Nel labirinto Quindi non entriamo Se è golden Non golden Sì sì No Ma mica può passare Da questa porta piccola È impossibile No Moro ti hanno preso Moro Sei stato preso Mi hanno toccato le palle E mo Adesso dovrei spawnare No Vabbè ti aspetto qui A me piace Ma lei ha sbagliato A comporre la melodia Sbagliato Perché hai capato Ma questo fungo È schifoso Eh no doveva Non poteva lì Era illegale Non poteva prendermi Eh invece ti ha preso Invece ti ha proprio preso Eh lo so Infatti adesso Sentirà la direzione Me ne lamenterò Vai a romper i maroni Alla direzione Gli sparo Ti aspetto qui O vuoi che ti venghi incontro Come cazzo fai A venirmi incontro Hai il senso Dell'orientamento tu No Allora Vabbè Mi era per far vedere No Per dire faccio qualcosa Eh Dino ma che fai Non lo so Ma vedi Che adesso io mi oriento subito Aspetta Sono orienta Berti Moro Sono un campione Questo finisce The witch Hai fatto No Sono andato un po' avanti Scusa Come hai fatto Andare più avanti Ma lì nel labirinto Sì Perché non Era detto A me vai sempre dritto Ti aspetto però Non ti preoccupare Ritorno alla cassettina Arrivo subito Che so la strada A memoria Lino Ah sì Complimenti Come fai Ho trovato una chiave Io ho trovato La signora penica Eh lo so Deco Mamma mia Mamma mia Proprio Però lo svolognate Se ne vada Merda Dai ma campera Come ti campera Eh la bastarda Mi campera Più che altro Eh ma effettivamente Se ritorna fa Io spero Addio che si possa Ciao Samuel Che si possa effettivamente Unire Perché se no È una bella ingulata Ma tu c'è il coltello No Absolutamente Non è coltello Tu Io no Ho il barattolo Ho preso il barattolo Perché sono passato da casa Eh Ah buono Mi porti pure un po' di marmellata Per cortesia Qualcosa Non posso Sono finita Come è finita marmellata Sono andato dentro Un coso nero Ti sa che ce l'aveva Fran No vabbè Quello Spawna Cioè torna indietro Dopo un po' O l'oggetto Sì in teoria si Anche perché l'aveva buttato a terra Fran Allora Io ti aspetto qui Amando Il prossimo No scusa E quando tornano gli amici termosifoni Mi faccio fare Giazzi tu A vostri Tra due settimane Ciao Nora Come mi stanno Un anno Tre settimane stanno Ah malino Me la sto godendo Ah Grazie di Dio Ah Tornano E' chiuso Scemi Hai cambiato le serrature Ma no Sono tornato nel mezzo Mortacci via No Moro E' benvenuto di muovere Lino Poga E adesso mi muovo Sai che si può fare Allora in queste settimane Tarcomone Eh No Eh dai Ce l'ho ancora installato Lino Che faccio In una casa abbandonata Essendo voci strane Credo sia Francesco che mi chiama Che faccio Vallo a salvare Ma dagli Portali Una busta di patatine BMG Mamma mia E' vero Non lo facciamo da una vita BMG Sai che Avevo Trovato la mappa Di My Summer Car Riprodotta Quasi bene Su BMG Drive Vabbè Ma c'era La mappa La strada Non è che era Chissà che roba Su No vabbè Solo che era carino Perché ti vedevi Il negozio Ti vedevi la casa Ma poi era una merda Ah non stai Guarda Oh miseriaccia Ma c'è sempre La zozzeria Qui Non vi mettete a dormire No C'è Però Dicevo Settimana prossima Perché c'è Resident Evil Mmm E' vero Vedo l'ora Tra l'altro Riparo Resident Evil Ho provato la demo Mi è piaciuto un sacco Io non l'ho provata Perché Non la voglio provare La demo Dai Ero curioso Ma questo è un labirinto Ma moro Ma che sangue Ti vuoi Ma che sei Ma ti vengo a prendere Io Dai ho capito Ma venga E' impossibile Lì Non c'è la vecchia Balurda Che mi segue Ma lascia stare I balurdi Sei giorni Che sto Girando Da Da questo Puzzolente Labirinto E basta E mi segue Scusami Ma se ti segue Allo moro Moro Mi segue lino No come mi sono bloccato No 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 Se mi prende a me Sono fottuto Mi ha preso lino Mi ha preso qui Sfigato Dovevi fare tutto Di nuovo Noo Ma allora Ma me la tengo io Ma la tanto Ma che gioco di merda Ma non l'hai scelto tu Sì Cosa Come vogliamo fare Visto che non c'è nemmeno Fran Aspetta Adesso arrivo Arrivo lì In un secondo No muoviti dai Fai qualcosa Si sono d'accordo Con il most Tantissimo Oddio ma sta qui Te la posso provare A tauntare un pochettino Il problema è che Non mi ricordo Dove cazzo Dove venire No non entra Alla porta Da bulon Me la sto cercando Di tauntare Quindi per un po' Sei libero Capì Signora Andare verso di là Secondo me Signora No Questa mi prende Oh ci sono lì Non hai trovato subito La strada Vedi Sei un fichissimo Vieni moro Lì Non è qui No Da ce la puoi fare Moro Ormai l'ho masterato Lino Sei proprio una sega No non è che era Prima il gioco Cazzo dico Il gioco di prima Era molto meglio Non è che era quasi meglio Addirittura Era molto meglio Era un gioco incredibile Sì Ma poi in realtà È Come tutti i giochi horror Di merda Sono stanco Di questi giochi horror Di fango Madonna Sono tutti così Terribili Magari dovevo trovare Le pagine Con le scritte Bravo Ma però davvero Di recente Horror cop Da parte The forest Non credo sia uscito Poco nulla Ciao Lucone Fanno tutti cagare Lino Mamma mia Tra l'altro Voi l'avete finito La forest Sì Io domani Se tutto va bene Non finisce Bello La forest è horror Beh Beh sì Snizz Cioè non È oro Non è jumpscherone Ma è oro Eh no Non è jumpscherone Ma c'è anche qualche jumpscherone C'è Allora Moro Eh Vai Veloce Snizz 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 Snip Snip Dammi lo spruzzino È un attimo Che ce l'ho anche io Mi mangio i papaveri qua Luca Quando vedo Luca Quando vede che uno lo scrive per un po' Io risaluto Perché non so se è tornato o è arrivato Capì? Eh Ah è esplorando il corpo umano Mamma mia Forse questo qui è il creatore Ma che schifo Ma è una strega questa È quella di Medieval Io non gioco a Medieval in live È uno di quei giochi che vorrei fare Effettivamente È un piacere rincontrarti Bravo signor Vabbè dimmi direttamente che devo fare Sì Non parlavi mai più Invitami tu New Groove Dobbiamo prendere il cortello dal suo tavolo Uccidere una capra E portargli alla desba Dove cazzo la trovo la capra? Ma diglielo a sta signora Dove cazzo la trovo? La capra Dove la trovo? Sotto la pagamba La pecora No Sotto la panca Ma no Lino ma ti sei accorto che Se ci parli da un lato i sottotitoli non ci sono? Sì È molto bello Io ho preso la mannaia Ma la capra dove puttana la trovo adesso? Ciao Giada Ah tu hai preso la mannaia La mannaia Ma poi che cazzo vuol dire che ho solo uno slot? Maledizione Aspetta che trovo un altro funghetto Cioè tipo io la chiave non la posso Non posso prendere la fetta di pizza perché ho la chiave in mano Eh sì Sappiamo che dobbiamo fare sta cosa qua Andiamo avanti Dove? Abbiamo una silver key Troviamo una porta che si deve aprire con la silver key Sì Eh poi ci sta una capra Ci sta un sacco di cose che dovremmo fare Ma non ne capiamo manco una E poi in realtà Se ci pezzino è nemmeno Io no Se ci pezzino è nemmeno così tanto terribile in realtà come gioco No è che c'è il labirinto Almeno per le cose che devi fare Però ci sta il labirinto Ci sta il signore che ti insegue E questo rende proprio una merda Ti può stare lì quella stronza ora Stare lì di fronte no? Eh e ma noi come andiamo lì? No basta fare andare di fianco guarda eh Vieni qua Aspetta 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 Stai andando tu E io? Aspetta c'è un funghetto qua dietro Oh Picchia picchia Siamo 8 su 10 lino Come siamo 8 su 10? Potremmo addirittura finire una quest Ma no! No se mi prende divento prensile Ok C'è la con te Lino no Come ce l'ha con me? Sì sì A me non mi hai cagato prove No io ce la mannaia Ma no Ha preso anche te? No no Però non mi hai cagato prove Cioè me l'ho trovato davanti Ma non mi ha No mi fa male la testa Moro Eh siamo morti Oh ho trovato un altro fungo Come siamo? No beh Un altro fungo Ti aspetto Ho venito di morire sempre Eh? Ma perché non ti caga minimamente? No zitti Come me caga No mi metto nell'angolo Così non mi prende No io non voglio essere preso Ok sono rinato Ma adesso ho la mannaia lì no? E dove siamo? Dove sei morto? Perché? Ma scusami Devi andare esattamente dove Ma no ma c'è la pavola con te Perché? Ti stai inseguendo Sei spaurato? Sì Eh mi sa che ti stava inseguendo Ma come fai a saperlo? Perché io ero vicino a lei Però a me non mi caga Non so per quale motivo Oddio ho fatto una grande cazzata Morai mi sono mosso Ma è qui Lino È qui Eh? Ciuccia Non me l'ha ciucciato ragazzi eh Grandissimo Però è andata di là adesso Allora io sono dove C'è una fontana Non so se hai mai visto sto posto Dove sta la mannaia? Ok aspetta che la vedo attraverso il muro Sono dietro la signora io Ma non si leva dal cazzo Questa vecchia Putrefatta di Lenzuola verdi Dei funghetti Uno ce ne manca Uno pare brutto Dai ce la puoi fare a non morire Stai zitto che te non ti caga Sono da me sta vecchia Per una volta che sono il più forte In un videogioco Non è il più forte C'è il culo Anche No no Sono il più forte Il più forte indiscusso Oh maronna mia Allora ci fate la cagata Ho fatto la cagata Ma per favore che sono la strada a memoria Sono un pazzo Ormai Pazzo del labirinto Cazzo ritmi Mi sa che c'è la contestata Stavendo ti No E me non mi caga bro Aspetta La mannaia è ancora lì? Sì sì La vedo aspetta Eh dai vieni Lo raccolta Vieni qua Mi no ma sei invisibile Non lo so Amore mi metto dietro qui E non mi vede più Metto tipo qua Anch'io mi metto qui dai Vediamo che fa Già niente Siamo compenetrati E se prende me Disinstallo windows Aspetta vado a chiamare Signora Vabbè ma non viene più dai Adesso si è tranquillizzata Dove un attimo sfogarsi Stiamo ingazzata No no Occhio che se ci sono i funghetti Lì no È fatta eh Ma che è Stato di chiedere Ma lo possiamo Chiudiamo fino a Mamma mia Che il rimborso di questo Anche se costava 3 euro Guarda No chiedere il rimborso di questo Ma non di quello di 6 euro C'è proprio Spreggio verso il sviluppatore Andiamo vieni Pezzi di merda Sei simpatico a tutti Pure al mostro pisella Hai visto Mi odia pure lui Fa bene Come mai pure lui Chi è che ti odia Lino Non lo so Facciamo una lista Tu No no Io non ti odio Ci mancherebbe Ok Vieni Io Ecco vedi Tutta la mia chat Mi odio Oh Moro Qualcosa che non è terribile No Ah ma qui bisogna mettere le pizze No Eh sì No Per evocare il signore Eh però tanto inutile Perché le pizze ne abbiamo trovate due No ne abbiamo trovate tre Ma non le abbiamo raccolte Perché ho le mani piene di sborra Hai capito? Che schifo Sì Sì Tutta viscosità Nelle mani Sì No Lino Sei diventato una mannaia Signora Ma me lo mi caglia proprio Signora ma perché Vabbè direi che è finito dai Siamo morti Lino andiamo a fare le 1v1 su quell'altro gioco Vai? Sì Chiudo Chiudi che sta bene Oh facciamo te la storia Però sta tu questa volta Ma l'avevo detto tutti quanti Eh ma è un gioco di merda E ora? E ora dove sono? I I progettori Dove sono? Hai dovuto costringerla a prenderti Sì lei mi odia Questo è un vero gioco Ah Eh come si chiama Super Autopets Bunnyman Adesso devo rigiocare Super Autopets Questo è un gioco Super cosa? Super Autopets Oddio qual'era quello lì degli animali Quello degli animaletti Sì che era tipo Una specie di Quello Quello Ma è entrato qualcuno su Discord? Quale eri tu che facevi rumore? Sì Ah ho fatto questo rumore Aspetta eh Sì sembrava Che qualcuno si era infilato No era Quello Quello Ok Story Ma story sarà single player Scusa No no È cop Cop story No Come no? Aspetta Cop story Ah cop story Che hai capito? No ho fatto story e basta Ma è locale Come locale? Online in basso a sinistra Ma sta lì Corso ci tolla Ma no Ah Connecting Stai zitto Sono provato mentalmente Capito? Ho provato Oh ma perché ogni volta che gioco a sto gioco mi fa male internet Ma che problema c'è? Eh stavigliando i bitcoins Ma veramente stavigliando i bitcoins Da biv Vediamo Magari è più divertente i deathmatch Allora Andiamo lì No Oddio io ci sono Eccoci il giallo Dino di qua A destra devi andare Aspetta ci sto arrivando Aspetta ora ho dei problemi No lì no dai Mi vedi? Sì che ti vedo E perché? Aiuto Salta Ok Eccomi qua No lì Non l'abbiamo fatto gagare Io sono Perché sono immobile Moro? Tu sei il giallo Appunto Eh Guarda Guarda perché non mi posso muovere Guarda come sono rimasto No Ti prego Ah aspetta Sono tornato in vita Ok Ma perché le gambe dure? Spiegale Perché sto giocando con il No lì no Aspetta Ma ho sentito sia il terribile Questo gioco Arrivo Ok Siamo fortissimi Vai Ancora No non era il mistero di super bandyman È tutto normale qui Secondo me mi dà dei problemi C'è qualche Problema con Le connessioni No lì no Mi hai tolto il portale Come ti ho tolto il portale? Se mori togli il portale E come te ne vai? Scusami Eh mo io E che significa? Però la carota era più avanti No io mi attacco il pad Imbazzisco No L'albero è tangibile Scusami Ti prego Ti prego Piano Piano Oh no No Prova a prendere poi Vai rotola Oh no No Sono caduto in un bambino Lino Non lo devo rifare È impossibile Moro questo livello Non si fa sicuramente Attacco Non si rompe Ma perché Pavo la Naccio Moro aiuto 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 Oh plants No Volevo prendere la carota Che morale diventa di Gabibo È la sua vera voce In realtà Sì Arrivo Aspetta Secondo me Secondo me qua dietro C'è qualcosa Aspetta Sono un fico Non è vero Non c'è niente Aspetta qua In me di dormo È il mio gioco preferito Non in assoluto Oh Ti ho preso Grande Il circo Vai Andiamo così Aldo Vado Aspetta la carota Lasciami La ti lascio Wow È bellissimo Vai vai Moro Aspetta Prendi la carota Oh salà Stallo è Aldo Sì volevo dire Aldo Giovanni E Giacomo Però solo quelli là Che facevano il circo No E vedi vuol dire Che il 2023 È un bel anno Sono tutti i miei giochi preferiti Eh sì 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 Ehi cosa vuol dire Ok Oh 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 Eh dai Mi hai fatto male Ma stai volando Ma stai volando Moro Tu No io Non Cioè tu sei fermo Che fai È perché non potevo muovermi Tu stavi letteralmente volando Giuro Non si muore Si vive Non lo vedo io Ma devo morire Per forza Sì Non riesco a morire Ah Che hai fatto Ho messo pausa Che è chi da vivo Ho metto pure pausa No Non so io Mi uccido Si Tutto Tutto Va ancora Sempre Opla Ah 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 Oh no Mi devo riucidere Non smettiti di morire Poi Vai Ok Grappiamoci No ho capito la tecnica Guarda Oh no MaOR MaOR Sono un banzarotto Aspetta Moro ha capito la tecnica Aspetta No Il buco è più largo È più largo Aspetta No ragazzi Non aumentate il counter di coke Come il counter di coke No il counter di Bloodborne Non aumentate Lino fermo Quante morti sei? Poche Porche Sì Sto facendo tutto first try Sì sì Oplaee Ma bellissimi Siamo stati bravissimi Siamo a 35 morti Ah vabbè dai pochissimi Ma sei scemo Che cazzo di calcio Aspetta arrivo eh Ponghi ponghi No Moro non riesco a morire Ti prego Ma mi uccidi Ecco qua Ancora ancora No non mi si muove No demmino il mio Moro sono un panzerotto Ah io sono rosa Ecco perché non mi muovevo Moro ma sei morto Eh sì Aspetta Voglio pure io Madonna che morte temibile Mi sono strappato proprio il collo Ok Ma no Ma vuoi finire di deprimerti Eh vai avanti tu Dico quando vuoi telegram Aspetta fammi telegram Un secondo Ma è una cosa fondamentale Che bello Quando ho fatto il mimic con le palle Moro Bellissimo È bellissimo il mimic con i testicoli Ok vai Moro Ma perché non funziona niente Ci vedo che voli No No Non è vera Questa cosa Aspetta arrivo Aspetta Moro mi viene a prendere Ok Ahia No Sei morto Eh sì Fai vedere Entrate sul gruppo telegram Vabbè No non ve la posso far vedere Sono dei testicoli giganti Ragazzi Cioè massimiliano La metteremo anche su discord Sicuro Quando vuoi anche sul telegram dei termos Va bene Ma facciamo la maglietta del mimic con le palle Ma perché mai Che sto facendo il nuovo merch Moro Mi serve Eh certo È una maglietta col mimic con le palle Eh beh Io la compro e la metto Il mimic coglione Mimic coglione Bellissimo Lì non cadere No 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 Che cado Io sono vittorioso Aspetta Moro Aspetta è che prendo la carota Ma sono su una palla di albero Opla te Ti aspetto eh Dai come chi è che comprerebbe un mimic con le palle Tutti Vai Easy Ehi Io no Io no Ecco da regalo Voila Bravo O finiamo questo gioco Verro Moro Ma ci sono un sacco di livelli Hai visto? No Quanti ce ne sono? Aspetta che ti inculo Ecco cosa succede Pronto Vado No non è vero Non vado Non mi posso muovere Aspetta Tra una mezz'ora Eccomi Eccomi Arrivò Deve venire sotto Ah cazzo Sopra c'è una carota vuota però Eh niente carota Ma perché sarà qui Anzi carota Eh mi piacciono No Non mi piacciono le carota Come? Oddio No Che culetto Ragazzi mi sanguina il culetto Non lo fare No prendi le mano Ma accoglimi Oh no No Sono morto per una stesa Non sei morto per una stesa No Vado Non è vero Arriverò un giorno Arrivo Io sto raccogliendo le cose per terra Non posso Io ho preso la carota Stai finendo il gioco Io non mi posso muovere Ma no Lino non vedo Nemmeno io Lino Lino stacca con le mani di merda E salta bene No non posso Cioè si muove solo questo Cosa fai il trappino Il restante non funziona Capì? No fai bene Per favore No ucciditi Veramente Non posso la carota Dai Non posso muovermi Ti devi uccidere anche tu Comunque È restante al livello Non c'è Oh no E posso fare solo Pori 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 Non c'è restante No no Ogni tanto c'è il lag Quindi non fa niente Capito? C'è incastrato Funziona Brava me l'aver messo La pausa Arrivo io Vai vieni Lo vedo io Non cadere Per carità Sono mai caduto nella mia vita Anche se cado E mi rialzo Ecco Così proprio Sì sì Mai arrendersi nella vita Signore Puoi morire come gli stronzi No di nuovo Che non si muove Ok Non è vero Si è più agonizzato Vai No non funziona Ok no Ma no che fai Ok ora sono io Ma voi vedete cosa che vedo io E che No Lino Non funziona No Moro funziona Mi devo uccidere Sì E vabbè Se poi potevo Ok 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 Vai Dobbiamo vincere Moro No volevo andare sopra No lascia stare lì sopra Andiamo sotto Sopra già ci sei stato Devi prendere lì No eh Ma lo prendo io Ma lo vedo io Ti ho preso Mauro Vai Ma di Francesco Nulla vero Non ci sa niente Che paura Mi sono fermato No Moro E come facciamo Drizzati Aspetta Ti lancio Ti lancio Ma hai perso il culo Però stai bene Eh sì Vai Lanciami Non c'era Aspetta Vai Vai Ma non Ah Vado Ci vado io Ci provo Pum 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 Lanciati da lì No Pum 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 No Sono defunto E' difficile Fammi provare Eh bravo Ma se è stato Il mio cadavere Ce la fai Stronzone Non ce l'ho fatta Col tuo cadavere Sì che ce l'ho fatta Il mio cadavere Ti ho visto Che sei salito su di me Hai usato il mio corpo Aia Ma ti sei fatto male Fammi provare qui Per una cazzà Non è vero Fresco La cospirifici nel mondo Ma scusa E poi Ah perché non c'è più il portale Giustamente Stupidone Oh Aspetta eh Io vinco Vado a vincere Niente Oh no Moro C'è un problema Molino Tutto questo Dobbiamo ancora finire L'FMV Noi Aia Che FMV AAAAAH The Dark Side of the Moon Bellissimo Moro L'ho giocato tutto A occhi chiusi Pensa Perché occhi chiusi No non l'ho giocato Non so neanche di cosa parli Puoi morire intanto Ti dico solo No non ti dico niente Se trovo a giocare Ma è bellissimo Ma è inita? Ah si Ma guarda Purtroppo è tradotto male Ti dico solo Che alcune volte Mi consigliano Di andare a scopare E non dovrebbero Consigliarmi quel Purtroppo non si muore Non si muove Ma adesso tra poco ti muovi Eh si si Purtroppo per davvero Mi hanno detto Mi hanno detto di scopare Si Più e più volte Mi hanno consigliato Di fare Di accoppiarmi Ma non No No Avevo preso la carota preziosa Sono un reno Si sono stato studi No ce l'avevi anche fatta Si ma che significa Che se muore uno Non puoi andare avanti Eh perché È una cosa di coppia Si è un bastardo sei Cosa cazzo ridi Sembra tirami i calci Col culo Ma vabbè Mi dormi dietro Oh Che succede Dai Penso di fango Questa era stata voluta Ah Vai Pegni ed sono a pegola Ti prendo io lino Eh brevi portami via Pegni ed ok Vabbè dai Ma Vai avanti per fatti tu Ma Ma non mi posso muovere No Ti si è incastrato Il coso del teletubbies Ma tra l'altro Forse Cioè tu non capisci Ma il mio corpo Si incasta Ah e ora mi posso muovere Ok Divento tipo una bus Cioè una bottiglia D'acqua schiacciata Ok Vai Moro Non mi buttare bro No Ok arrivo eh Non ti preoccupare Dai vieni lino Un giorno arrivo Eh Eccomi Opla Plum 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 No Aiutami Ecco qua Ok Moro Ho dimenticato come si gioca Opla 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 Sono diventato un pro plays Ma aspetta Eh Ma ora Ma come vengo là Eh sal Devi saltare Dai Non ci riesco Spiegami come fai Eh io adesso ho fatto una provata Ho iniziato a saltare Dalla discesa Mannaggia La miseria Dalla discesa Inizial Ma portami Moro Così mi trovo avanti Vai Così non possiamo cadere Tra l'altro lino Vai Sembra veramente Stiamo facendo Quasi l'amore Acrobatico Non ha funzionato Così No Non ha funzionato Aspetta Moro Mi aggrava Vai Andiamo Facciamo l'amore Vai 69 9 second In massimo durata Oh No No Ma no Che dolore Vai Ma secondo me Così è perfetto Oh Wow Wow Che succede Il formato W è funzionato Incredibile Questo Sì Che è stato incredibile Oh E niente Io sono una busta Staccato No Eh quando mi impegno Ragazzi Diventiamo Ok Arrivo Un circo Opla Vai Grappa Di sì Vai Facciamo l'amore Aspetta Sì Siamo diventati Non saltare Non saltare Qui Aggrappati sul pavimento Ok Aspetta Ecco Oh San No Non saltare Che dobbiamo Eh Vabbè Questa è un po' facile Però Voglio un po' di sfida Eravamo insieme Quindi il peso Non ci ha fatto saltare Certo Oh Scusa Vai Aspetta Aglie che tentate Tiè Vado Oh Aglie un culo L'ho preso Ah no ma sono ancora vivo Sì Eh ma Moro ma sono incastrato nel dolore Ecco qua Aspetta fammi esplorare Il retto Aiuto Ritorna Aspetta Vai sali Ci credo Io credo in te Ma no Ma no Vai Ce la fai ce la fai No No Al contrario impossibile Veloce Proprio come un coniglio Dai Ok Ah Stavo per morire Ok Arrivo eh Oplay Ok Ok Campione nazionale del dolore Aspetta eh Vai 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 Moro Si aggrappiamoci Ah Ma siamo bravissimi Lino Qua si finisce eh Ci sono Il primo E il dopo A finire questo Ciao Niente oggi non riesco a parlare Questo ciao Oggi Moro sei va Che dolore Ragazzi Questo gioco Comunque È incredibile Porca mia Vale tutti i 14 euro Che cosa Che nessuno Che ci crede Ecco Finalmente qualcuno Che No Lino sei morto Ti porto con me Non ti preoccupare Sto porti il mio cadavere Piccolo Portami lontano Aia Oh Opla Opla Niente È il mio nuovo gioco preferito Giochiamo tutti i giorni Magari però Se vedono che Effettivamente viene portato Almeno una volta in là E fanno altri livelli Perché Chi l'avrà comprato C'è un botto di livelli Ce ne sono ben tre No No Di coppa Più di due Perché coppa uno È comunque la coppa uno Capito Di livelli Perché ci sono tre stage Ma con quindici livelli l'uno Sono tre stage Ma con quindici livelli l'uno Porca E noi siamo a zero Oh Eccoci qua Arrivo Aspetta Aspetta vai Ti immagini un bordello in quattro Eh anche quello è vero Perché non ci riusciamo più Ah Non ci sono mai riusciti Ahia Eh salta No Salto Oh Chi te la bevo Ma abbiamo Ma abbiamo Ma abbiamo a me No Non ho andato delle sfine Aspetta ma lo vedo io Ma no Ho un problema No Ma qualcuno mi venga a prendere Per favore Ho avuto un problema Arrivo Grazie Come stai? Vado No questo è come quello degli zompa zompa vola vola No no Che cosa è quello degli zompa zompa vola vola È un impossible game Tipo Come si chiama tipo Quello della pentola e il martello Ah sono vivo Quello della pentola e il martello Che cazzo giochi sono? Quello della pentola e il martello Dai Sono presente Eh come si chiama? Sai che cosa mi ricorda un po' C'è un metallone Eh vabbè però sono solo un cazzo Mi ricorda Come si chiamano? I happy wheel Ma mi ti ricordo Sì Eh però sono belli No Ma sono stupido Sono i 5j game Questi dai Eh ma sono belli Get in over it Quello del dolore Si può giocare in gop Con il get in over it? No Però c'è quello degli zompa zompa vola vola Com'è che si chiamava chat? Quello lì che avevamo fatto noi nel canale Poco stack Bello però Magari Oh Oh vabbè Dai il problema è ancora Abbiamo 5 minuti Moro Vai 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 ci sei Aspetta di dire comune Ok Vado Oh Aspetta Moro Ce la faremo Non si stacca Vieni che non facciamo un storiello Dai Poco stackerà Una merda ragazzi Ma una merda di quelli Incredibili Ok Altro Marco Quando torna dal Giappone Inizierà a fare tutti gli impossible game Che gli passano sotto mano Sono morto Come si chiama? C'è anche quello che giocano tutti Del cavaliere che salta Shovel Knight No Che sembra il protagonista Di Shovel Knight Però è quello dove Jump King Tipo Ah Morto è morto Sì Pure io È vero anche il TF4 C'è il cavaliere che salta Scusa Ti odio Sì al TF4 Non l'ha già fatto Moro è ma di Giappone a tentarsi Sì Eh a me tipo Al TF4 non piace invece Non lo so Sarà Secondo me è colpa della grafica Eh va bene dai Ma che è L'orario Abbiamo perso Il tazzo Facciamo un deathmatch Per il finale Sì Però questo livello Non voglio finire Lino Allora finiamolo Vai Ci dobbiamo impegnare Vai Vai Morelli Spampagnato Niente Oddio quasi Moro è io Eh aspetta eh Grazie a me Se è salito lì E io Salta Salta bene Ecco Ci sono Ah Oh no Me ne vado Ah 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 Dai Spampapoons Oh no Hopla e D'altro Cia l'hai provato tu Come? Cia Cia E quel giochino che è uscito adesso Tutto carino Puoi prendere i cani da per terra E metterti lì nello zaino Che cazzo di giocare Lo vuoi giocare subito? Oh Che cos'è questo gioco? Ah sì Oddio Non lo so Mi sembra un gioco troppo serio Mi sento Mario No Moro In realtà sai che non è Molto serio Cioè? Posso divertirmi O le risultate sono vietate Puoi trasformarti in un gabbiano E cagare in giro Ok Questo lo sta rendendo Già più interessante Vedi? Però è un gioco Cioè in realtà Come gioco è molto Chill Nel senso Quello che devi fare nel gioco È esplorare sostanzialmente Quindi Raccogliere Raccogliere tutte le robe Così Però Ti dirò Pensavo fosse la solita Puttanata No Tipo Col messaggio di fondo Pro Qualcosa E invece no Allora si può Potrei farsi un pensierino Anche se ormai No Lì Cosa è che Cosa è che C'è proprio voglia di avventura grafica In generale Ho comprato anche quella lì Di Blade Runner Che dovrebbe essere carino Abbiamo guardato oggi Tra l'altro Quindi Blade Runner Sì Come hai fatto Ma è lunghissimo sto livello È il livello più difficile del mondo Era arrivato Era qui Il Budello No Mark Spanso Chi è? Vabbè Facciamo un deathmatch Dai L'ultimo deathmatch Sono 59 Dai era l'ultimo livello Lino Eh buongiorno Non fa niente Io lo amo Ve lo dico Io amo questo gioco Ma solo per come ballano Hai visto Giulie che bello Si divertono proprio i pupazzini Pi ripi Pi ripi Mi dispiace un sacco che Fra non è riuscito a godersi La serata Che cazzo So cosa significa la connessione Che ti rompe coglioni Lo so Lo so perfettamente Ok Go Siete dispiaciuti Che non abbiamo fatto L'ultimo livello Ciao Annalisa Dovevamo farlo No Sono morto Eh Sfigato Molto dispiaciuto Mi piace Mi tocca finirlo Ma mi sono rotto il collo di nuovo Ma fatemi il favore Ma io chi sono? Giallo Allora sono un fico Ma sei mezz'ora che salti E mezz'ora che salti In quelle cazzo di spiega Ancora non sei morto Eh no appunto Perciò lo dico Sono un figo Non so neanche come ho fatto A non morire Vai via No mi affoghi Sono Ah Marzo Guarda ma Ma perché lì non è morto Sono morto a fuga No mi sono rotto l'osso del collo Alcorso Guardiamo Crettino Ma abbiamo Ma sono troppo fragile Fragile Come un sogno Fragile Muori tu Non io Ahia Ma sono fatto di pelle Sei un pelvico Ma moro Fai schifo Faccio cagare Ma almeno Sì un avversario decente Per me Ragazzi sto affogando Oh ma che si Credi no Oh però se ti prendevo lì Ti spaccavo la faccia Era bellissimo Hopla E li faccio la Kimmy Kubaster Guarda moro che ti faccio io Niente proprio Niente Ultimate Masson No Lo sai Lo schifavo proprio Che testa di cazzo Se mi passava per televisione Chiudevo Perché Non mi facevo i disegni Mi dava troppo fastidio Ma vaffanculo Eh lo so Bastardo Eh io salto La cosa che mi dà più fastidio È che Non ti puoi girare a sinistra Oddio ho rotto un albero Nooo Ah hai sfigato Ma c'è l'ultima No non sei morto Io non so più salire Sono morto anch'io Bello Stato Meraniglioso Questo gioco Il gioco horror Era proprio una merda Eh Sì 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 Era proprio Fa cagare Sì Fa cagare Però è stato bello Sto contento Disconnetti Ti prego Sì Io non Io non Lo Rimborso Guarda Quasi quasi neanche io Lo tengo qui Lo tengo Unity Cloud Eh Eh Che cos'è questa roba Nessar from Unity Ha chiesto Se ti può rubare i dati Sì No Non glieli voglio Ben Sono miei Ciao bravo Buonasera Sono tutti miei Oh mi dispiace ancora tantissimo Perché Franz è riuscito a godere la serata Però dai Si rimedierà Tanto ci sarà tempo Sicura Non stacchiamo noi Eh Che buonanotte Bersi Io invece stacco E vi li mando Va buono Va buonanotte Moro Grazie ancora per la compagnia Ciao Oh mi recuperiamo Dai pure comprati Sì Sì A dopo Ciao 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 Ragazzi Ragazzi Adesso Nanna Va bene Vi mando Da lì Non Ti è Intanto grazie Naturalmente Non ho ringraziato Mentre cagavamo Però veramente Grazie a Scanos La Bamba Stefano Picozza Elvir per i 100 bit Rick Bagnacauda Revolver Chris Dead Zork Zeroski Deniurgo Bird Flemma Fa E poi gli altri L'hanno già ringraziati In realtà Grazie mille belli Andate da Lino E gli dite Va bene Così Lo dovete scrivere Bene però Noi ci vediamo Domani mattina Con Crack Un gioco nuovo Basato sulla Lord di Bloodborne Ci vediamo domani Ciao belli Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo